da poco terminata la gara del portici non vogliamo ascoltare oggi a dire che lavori giocatori ma andiamo a sindacare insieme alla tifoseria uno dei rappresentanti del tifo storico del portici massimo da quanti anni tifoso della squadra 15 anni perché il portico che vuol dire amore e passione se squadra che sta nascendo di pasquale borrelli come la viti una buona squadra sicuramente per i playoff ci saremo senti il tuo invito a seguire la squadra la domenica mattina dal paudice di san giorgio crema si venite in tanti ci divertiamo quest'anno forza portici forza old fans e forza tutti i tifosi dei portici dai ragazzi seguite in massa seguiteci in massa